Hanno dato vita al terzo polo per mandare in pensione il bipolarismo e offrire ai napoletani l'alternativa a PD e PDL. A urne chiuse però, gli ex Alleanza Nazionale di Futura e Libertà, l'UDC e l'API non sono andati oltre il 9,7% dei consensi e si trovano ora nella condizione di ago della bilancia tra Luigi De Magistris e Gianni Lettieri. Il candidato Raimondo Pasquino non è riuscito a intercettare il voto dei moderati, così come nelle intenzioni. Per chi si schiererà adesso il terzo polo? Ad ascoltare le opinioni a caldo dei leader rischiano di perdere la bussola anche i sondaggisti più scafati. Se Italo Bocchino ha infatti annunciato che i futuristi non potranno mai sostenere Lettieri, Pier Ferdinando Casini proclama a Telecamere Unite il mancato appoggio all'ex PM. Ma nel segreto delle urne tutto può accadere. Il 29 e 30 maggio nelle urne sarà comunque decisivo il 10% di napoletani che aveva puntato per il dopoiervolino sul rettore dell'Università di Fisciano. Grazie. Grazie.